È stata una bella giornata di sole, quella di oggi, martedì 26 aprile, una bella giornata primaverile che ha visto il primo allenamento della settimana della squadra, allenamento che si è svolto di pomeriggio allenamento alla quale non ha partecipato Dejan Stankovic, uscito per un infortunio durante la gara di sabato contro la Lazio e allora per parlare di Stankovic iniziamo il nostro racconto della giornata nel parlare del centrocapista servo perché quest'oggi si sono svolti i controlli strumentali che erano stati programmati dalla professora Combi direttore dell'area medica di Efficio Internazionale, controlli che purtroppo hanno confermato l'importanza degli infortuni che ha accusato lo scorso sabato 23 aprile nel secondo tempo della sfida contro Bianco Celesti Lesione di secondo grado all'adduttore della gamba sinistra, il centrocampista, è stato già sottoposto alla prima seduta fisioterapica mentre il gruppo, e qui arriviamo alle immagini degli allenamenti, dicevo il gruppo qui al centro sportivo Angelo Moratti ha ripreso la preparazione per tutti sul campo centrale, allenamento completo con una serie di esercitazioni tecnico-tattiche Wesley Sneijder ha lavorato con i compagni al pari di Walter Samuel seduti invece individuali, e qui arriviamo a coloro che hanno fatto parte del lavoro del gruppo a disposizione di mister Leonardo dicevo, seduti individuali per Tiago Motta, in parte anche sul campo, per Castellazzi, per lui solo palestra riposo per Ivan Ramiro Cordoba e Davide Suazzo domani in mattinata la seconda seduta in vista della sfida di sabato è arrivato il momento di tornare al Manuzzi perché si va a Cesena, Cesena Inter questo per quanto riguarda gli allenamenti, per quanto riguarda invece tutto quello che ha a che fare con il mondo Inter l'appuntamento è consueto alle ore 19.30 su Inter Channel, canale 232 di Sky